Ready, Aim, Fire! Ok, quando volete 3, 2, 1 Ciao Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Game E siamo oggi qua in questa mappa obesa Insieme a un pochino di gente Ve li presento Il primo è PC Reset Ciao a tutti Il secondo è Rappa Ora smettete di picchiare Non gli ho capo a parlare, vero, scusate Poi c'è Mister Spassani 3D Ovvero Redbox FPS Ciao Poi c'è Adon E c'è Tizio 20 Andiamo a vedere Ok allora Eh, non dimenticare Vedete ripicchiarmi Ok, eh, se mi devi Se mi devi Sì, Muga io non devo metterlo Andiamo Andiamo Oh che bello, c'è il tapettino rosso Oh, benvenuti Andiamo Stiamo andando Ancora! Anch'io un po' No! Sono caduto! Sono caduto! Teletrasportatevi lì! Where are you right there? Sono caduto! Sono caduto! Sperai, faccio la strada dai! Ma perchè io non fai in macchina? Eh certo! Perchè in realtà siamo ancora in macchina Avevano il te? Sì sì, ovvio! Ma non è vero! No, non siamo in macchina! O la smettete di picchiarmi? Ah no, perchè io vi vedo tutti in macchina! Non so! Che cosa voglio fare in questo video? Allora, voglio fare a questi intervistati che ho intervistato troppi mesi fa, troppi Grazie a me no! Lol! Eh, una sorta di pvp per vedere di scannare la vicenda Ma nel mio contratto non c'era scritto Eh, non ci fai Eh no, anche me quando mi è andato il pagamento per l'intervista Mi vedete? Ah, ma ancora non è arrivato il pagamento stronzi Ma avevi detto che mi pagavi Oh, sono sul tappeto volante di Aladin! Oh, fa... no, l'avete rotto stronzi Lastardi Ok, perfetto, venite qua Eh, se volete Inzate dentro a questa stanzetta qua Se volete, è una minaccia No, non voglio Chiamo il mio avvocato È morto Oh, smettete di picchiare Mi si vede la mano Non mi si vede la mano Oh, quanti belli smaraldi Ok, eh... Tizio dove sei? Tizio, vieni con me Arrivo, amico mio Tizio, vieni con me Tizio, vieni con me Tizio, vieni con me Tizio, vieni, 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 vieni 98, ho riuscito a farmi felice Caramelle Fermi tutti Fatemi spazio Qualcuno è stato furbo E ha preso direttamente il cibo Invece che schiacciare il po' Che è questo qua? Biscotti free per tutti Sì, dei biscotti E dei biscotti Io non sono musica Lol Ma... Ocuno di voi sta leccando? Io? Io sì, io sì Ah, ok, grazie Piscotti Mi forno E cosa ha fatto? Oh, il bambino, uccidetelo Oh, lei è uno... Eh, fagli andare sull'ecoto di legno, ecco E poi tirò la legno Andate lì dove c'è il legno di... Occa O di legno Quello che è, ecco Ah, ok Legno di legno Legno di legno Ah, dobbiamo saltare dopo Così è un parkour No, state di fermi, state di fermi Ah, no, che cazzo Corri Corri Scappa Corri Corri Fuggi Cos'è questa stanza? Oh, via via Sembra una mappa di CSGO Aiuto Sembra una mappa che c'è buio Oh, paura No Che arrivo a mangiarti Da fuck Vre... TC Reset Rapa... Non avrei bisogno di PS Vaffanculo, ho trovato la mia stanza Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo... Vediamo un po' E adesso che devo fare? Vabbè sto dentro la cazzina di Ezio C'è un muro che ci separa E' un vetro possiamo romperlo volendo No l'abbiamo rotto per lì Oh shit Ho visto te sopparire sotto Teletra sotto Quale cazzo è venuto? Sono qui A me non posso entrare Cattivo Dai ho cominciato sta cosa No perchè non posso entrare Perchè qua è già aperto il passaggio mio Boh Non lo so Eh prendete la roba che c'è dentro la di cesto L'avete già presa Che roba se devi metterla via Si ma poi c'è Dentro la vostra stanza c'è una No perchè No non c'è niente da me Oh cazzo C'è di dove c'è? Aspetta un attimo Tizio Ah no 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 Eh ognuno ci aspetizza Ma io voglio stare con Tizio No 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 Tizio nooo Oddio Smettete di aprire la mia porta Ciao Red Bull Ciao Red Bull Come va? Come va? Ma io adesso siamo giunici qua nella gabbia Che cazzo è? E' pure io Mi sento in crisi In panico In crisi Attenzione Non ho mio spazio vitale Vi sentite dalle bossi Tizio 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 3 2 1 Grazie Via Biscotti Oh si Ok Opa perchè si è scappato? Clicca qui Cosa ho trovato nella mia cesta Ma non posso capire la cesta Ma non succede niente Apro la cesta e non mi si apre Alpa Ma se non si apre A me si è aperta Che stregoneria ha ne questa? Rapa ti fermo ti apro io Ma perchè si è scappato? Oddio dove mi hanno tenuto trasportato? Dove cazzo sono finito? Questa cesta che cavolo devo farci Eh mettetevi la cosa che c'è di dentro Io sono già Io sono già arrivato all'arena Mi sa ragazzi Ah perfetto Adesso il vostro obiettivo è ammazzarvi a vicenda Perfetto Ok io non riesco ad aprire la cesta Vado a prendere le posizioni migliori Vaffanculo a voi Ciao Aiuto Aiuto Che devo fare? Non mi va niente Ma è troppo Voglio aprire la cesta Noeres l'unico C'è anche del cibo Oh si c'è una macchia così avrò del cibo E' game Ok Il pollo Game Tizio Volete dirmi che il mio nemico è il pollo? No Esatto Cioè mi stai dicendo che è il pollo Chi c'è è il pollo? Io vedo qua Adrien Adrien Help me I love you Chi è sto tizio? Oddio mi sta uccidendo ma perchè ognuno ha lo spawn diverso? E' game Se Ognuno ha lo spawn diverso e se vi incontrate ammazzate via vicenda E' cosa sei Allora Io c'ho fame non so se è normale E poi non posso aprire la cesta e non posso premere il bottone No No Aiuto Ma non ti fa aprire la cesta te Adrien No Eh io non ho aperto la cesta Ma perchè? Forse non sono Hop Ok Sto da che vi Hop Hop Adrien Io devo tornare indietro allora Qualcuno mi ha fatto Aiuto Oh ora si Sono senza niente ho paura Oh Perfetto Grazie Ma cosa c'è quella costruzione Oh son dentro io Che sta fucking credo Aiuto Aiuto No vorrei uscire Cazzo no non solo ti fai Cazzo no non solo ti fai Cazzo no non capisco dove cazzo sono No non capisco dove cazzo sono Ragazzi ma c'è tutti nello stesso posto perché non vi ammazzate No che non siamo nello stesso posto Io non sono nello stesso posto No no io vedo Mike Jakes Tt20 No Tt20 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 Ttt Tt 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 Togliatoi Brutta cosa Perché è stato trasportato indietro? Ticireti? Perché è stato qua? Ma non è stato trasportato Ma non è giusto Ah Loll, vabbè, allora rimani creativa E stai qua, ecco, guarda lì Raccomandati di merda Ok, sta andando Tutte come non volevo Loll, perché? No, mi aspettavo più ordine e meno lag Ma no Ma non lag Ah no Io non vedo nessuno Un'illogenzia Qualcuno sta tornando Togliatoi Oh madonna Oh madonna Qualcuno Ok, sconto epico te la appare I'm coming for you No Equaton Puta mia Bravo Tanta roba Lalla Ah 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 Ok Ti ci ho detto molto Ma c'è qualcuno che sta tornando Posso fare la teletronaca? Non funziona il bottone, ma c'è il bottone Attenzione signori zaghi No, adesso si avvicina verso il bersaglio Non funziona il bottone, teletrasportatemi da voi, please Ok, vieni Lo slogan Allora, TP Sono Mr Spartan 3D Rappami racconta e fa lì C'è un parkour, la sul LOL Aiutatemi Stronza Mi avevano già teletrasportato Chi hai chiamato teletrasportato di nuovo? Oh ma sei Aspetta un attimo Rappa, no Hai vinto Rappa? No No, ci sono ancora io qui Eppure è caduto l'omino Rappa l'assassino Non è giusto Rappa la tua volta ti fa bene Rappami racconta e fa bene L'avete vinto? Hai vinto anche lei? L'avete vinto? E dai? Oh mio dio Ok The reason is that I'm coming back again Oh no, mi avete teletrasportato ma sono fuori Oh mi fonto la roba di questo che è morto, si Sono un parassita, mi avete richiamato Via Ok, apura site Vencerò io, vincerò Stronzi Ok Si vuol quadra che non cosa Qualcuno mi continua a riportare indietro dalla morte Non aspetta tizio, non uccidermi, devo rimettermi Oh no, scopritemi Perché c'è anche Adran Io l'ho ucciso personalmente Tutti su Redbox No, io non ho armi, datemi armi Muore No, 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 non voglio uccidervi Arma dietro Ah, ma mi avete messo in creative ora Sì Va bene, così posso ucciderti No, pure Adranen Che erati Fatemi uscire da questa cosa Via Fuga Ah, ma tutto il mondo è di vetro Oh mother of god Eh, sarebbe il coltono del mondo, ecco Ah Oh E c'è un altro muro ancora Lol C'è un parkour Facciamo il parkour Il parkour Ma quanto cazzo è altro? Oh ragazzi, volete fare il parkour che avete segnato a Brent? Sì Perché l'avete segnato a Brent? Un parkour che ho fatto io Ho fatto un parkour per la per Brent Così a caso Ah Dai, son già qua Volevo fare pure io Deathmatch a pugni Ok Dove cazzo? Ah, ok tipo Dai, eh Oh tizio, tizio Tizio, guarda come sono bravo, eh Vai, vai Sei un verme Oh Oh, sono arrivato alla fine Cosa c'è nella chest? Oh, la vadova Tutta la roba figa La prendo io Eh, ho riuscito La vai, la vai, la va Ah Mi soppiato a cosa Ok Perchè sta griffando tutto, là? Che è che sta che fai? Un master griffer tornato dal mondo dei morti Eh, certo Dal mondo dei porci Ok Stati tutti per morire Mi so No No Stronzi Perchè? Per griffare bene serve anche l'acqua Perchè mi avete ucciso? Bambuini Bambuini Ok No 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 Tc dove sei? Alleanza? Sto vagando sottofremia Che d'alleanza? Accetto Allianza è spinta Ok Facciamo squadra Ah, sei nato Ah, sei nato Oh, man e salve Che cazzo è sta cosa? Ah Niente Ecco non mi ricarica e trasporta Chris Hitmerch Ti bene Ma perchè alcuni non possono essere picchiati? Non è giusto Perchè stai pagando con cane? Noo no Minecraft non risponde nooo No 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 Qua mi state uccidendo ma io non è giusto Io non voglio uccidervi Nooo basta Termmi tutti Stai trasportatemi indietro No No Sono un po' corazzato Perchè tizio 20 e 2 Chi che lo sei? Ti ho spappolato Minecraft non risponde Oh, dici che chihi o è da me? vieni! Ho un pezzo di sabbia per te, è un bel regalo! No, per l'induzione! Ludacris! Lo cazzo! Ma come? C'è almeno uno dietro dietro! RIPI ALONE! NEPTACCHIO DEN ELONE! Dai, io ce ne stai vedendo da questo cazzo mio! Perchè? Mi stai uccidendo, bastardo! Africa is back again! Perchè? Ah, vaffanculo! Oh, batti 5 minuti! No, non te l'hai trasportato! Sono stato salvato! Oh, c'è l'uscita! Vengo l'uscita! Ho paura! Rappa, io ti voglio uccidere! Te l'hai trasportata e mi indietro, bastardo! Vieni! Dai, te l'hai trasportato! Tutti contro Rappa! Tutti contro Rappa! Sono armato! Sono armato! Tutti contro Rappa! Dai che sono armato! Teletrasportatemi! Tutti contro Rappa, vai! Dai, portatemi in mezzo alla crew! Get the crew! Sei! Ebbene, faccio la droga! No, fermo! Facciamo un passo infinito allungo andare... Un passo infinito allungo andare... Ok, stop! Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, stop! 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 Sospendiamo le ostilità... la vita ci sta make it up vaffanculo tesorata oh yeah il tuo culo è grande come un gioiello oh si guarda la c'è una troia col furca oh si basta oh la la per favore potete trasportarvi da voi i maledetti i'm like dying oh bro infatti ah 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 la 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 colli ecco il tuo premio paura ma io ho datemi una caramella almeno per il secondo arrivato ho messo qualcosa quindi dai io non voglio una caramella io voglio sangue allora salutate tutti perchè questo va su youtube dai salutate oddio paura ciao 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 bro voglio un saluto da tizio e un saluto da tic reset che si senta bene ecco tizio per favore facci il saluto ok tizio tizio facci il tuo saluto per poco quindi da tizio è tutto ciao a tutti boop tizio c'è Grazie a tutti